buongiorno sedute di consiglio e l'undici gennaio 2022 sono le ore 9 e 44 appello teresi assente aiello presente altadonna presente cavaliere presente di gesù presente figuccia presenta lo sardo consigliere lo sardo assente lucido presente palazzo presente stabile presente otto presenti due assenti grazie visto il numero regale la seduta è aperta oggi siamo in prosecuzione sì ok per cui nominiamo intanto i scrutatori buongiorno presente perfetto ok nominiamo i scrutatori il consigliere palazzo la consigliera di gesù la consigliera cavaliere chi è contrario e chi si astiene approvata l'unanimità segretaria prego se mi mette l'ordine dei lavori davanti per favore si si è arrivato alla votazione del punto 43 lo s è stato trattato ieri e oggi dovevano essere votati sia gli ammendamenti che la proposta signora cuccione il punto 43 quello che riguarda la palestra di borgo nuovo è il punto 43 si trattato ieri e già abbiamo finito ieri è stato trattato del tutto in senso della stata chiusa la votazione no no bisogna votare sia gli ammendamenti e poi e quindi la proposta perfetta la passiamo al punto 43 votazione allora dobbiamo andare in votazione non è chiusa io ho detto bisogna votare sia gli ammendamenti che la votazione del tutto 43 scusa non avevo sentito e allora facciamo una cosa mettiamo in votazione mettiamo in votazione il parere eh gli ammendamenti prima sì gli ammendamenti li possiamo leggere prima per favore sì se è possibile aumentare un poco ok quindi il primo ammendamento alla proposta con oggetto manifestazione regionale di eredica pesante nel quartiere borgo nuovo emendamento modificativo sostituire il presidente del coni palermo con il delegato provinciale di palermo del coni sicilia è un rappresentante del fsn si leggiamo anche l'altro e poi li mettiamo per ordine li votiamo perfetto secondo emendamento aggiuntivo aggiungere dopo le parole carattere sociale nazionale o europeo filmato il consiglio rosardo terzo emendamento aggiuntivo aggiungere dopo le parole possibile all'evento chiedendo altresì un contributo al governo nazionale presidente posso sugli emendamenti sì prego consiglio alfano sul primo in particolare ehm anzi di sostituire il presidente del coni provinciale sono d'accordo con ma anziché col delegato del coni regionale perché non con il presidente del coni regionale per occuparci sì così così invito qui la commissione che ha presentato gli emendamenti consigliere della delucidazione sull'emendamento e per quanto detto dal consigliere altadonna chi c'è il consigliere palazzo chi c'è della commissione non c'è nessun componente della commissione non è che possa dare delucidazione io sono qui io sono qui io sono qui all'altra ehm nota scritta se dicevo consigliere rosardo perché sostituire il presidente provinciale con un delegato regionale non con il presidente provinciale regionale del coni eventualmente cioè qua diceva eh la proposta il presidente del coni palermo è giusto ma non c'è il presidente del coni palermo no non c'è come figura non c'è come figura no 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 è chiaro è chiaro è chiaro questo siccome nel nel fare la proposta concordo con lei che è stato diciamo eh commesso diciamo questa leggerezza volevo sostituire eh il delegato provinciale di palermo del coni sicilia con il presidente del coni sicilia questo dicevo cioè visto che noi stiamo chiedendo appunto la possibilità di avere fondi europei perché accontentarci di un delegato provinciale non di avere proprio il presidente regionale del coni no ma il delegato provinciale eppure è anche del coni sicilia però eh non solo provinciale c'è la virgola del coni sicilia delegato provinciale virgola del coni sicilia è un rappresentante delle federazioni ah quindi quindi diciamo dove c'è del coni sicilia possiamo intendere eventualmente anche il presidente del coni no? ma anche per lui è chiaro è chiarissimo c'era 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 forse la virgola che 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 non 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 era stata presa in considerazione non la vedo proprio no no non la vedo proprio dallo schermo sono col cellulare ah va bene perfetto 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 grazie consigliere sardo per aver felicitato no ci mancherete tre emendamenti mettiamo in votazione per ordine il primo emendamento che è contrario a chi si astiene approvato all'unanimità mettiamo sempre per ordine di lettura il secondo emendamento lo mettiamo in votazione che è contrario a chi si astiene approvato all'unanimità mettiamo sempre per ordine l'ultimo emendamento il terzo che è contrario a chi si astiene approvato all'unanimità avendo approvato eh tutti e tre gli emendamenti invito la eh segretaria a votare per appello nominale la proposta come testa emendata perfetto si mette in votazione la proposta emendata manifestazione regionale di atletica pesante del quartiere bordo nuovo teresi assenta aiello favorevole altadonna dichiarazione di voto nel ringraziare il lavoro fatto dalla commissione sport voto favorevolmente cavaliere favorevole favorevole di gesù favorevole figuccia favorevole lo sardo favorevole lucido favorevole palazzo favorevole stabile assenta otto presenti due assenti, otto voti favorevoli sì grazie grazie segretario visto l'esito della votazione la proposta è approvata all'unanimità passiamo al punto sull'ordine dei lavori quale punto abbiamo? 44 perfetto, passiamo al punto 44 si tratta di possiamo dare la lettura del testo? sì, sensibilità al tema covid nelle scuole presentata da chi? consigliere Figuccia prego, se possiamo dare la lettura sì ma la signora fa letto riego sì, presidente ho cose qui stiamo cercando la proposta? no, no, presidente Aiello dobbiamo prima approvare il prelievo altrimenti dobbiamo ritornare al punto 11 per l'ordine dei lavori eh, quando io lo dico sull'ordine dei lavori pensavo che era era una mazione e sanificazione scuola Sant'Angelo al punto 11 no, no approviamo il prelievo del punto 44 che è contrario e che si astiene approvata all'unanimità prego, segretario della lettura ok la sensibilità al tema covid nelle scuole premesso che uniche funzioni attribuite attualmente ai consigli di circoscrizione sono quelle propositive di cui è l'articolo 20 del regolamento per il decentramento considerato che continuiamo ad affrontare ogni giorno la pandemia considerato che sensibilizzare i bambini nelle scuole elementari sarebbe la base per sensibilizzare anche più grandi ritenuto che si potrebbe potrebbero invitare i medici dell'asno nelle scuole per parlare del tema si propone al consiglio di circoscrizione di adottare l'atto relativo a quanti oggetto affinché gli uffici preposti possano realizzare tal evento consigliere proponente figucia marco grazie segretario il proponente è presente sì buongiorno presidente prego può funzionare non so vuole intervenire in merito sì consiglieri la proposta nasce dal fatto chiaro ed evidente leggo anche la data era eravamo a settembre io già immaginavo che come ogni anno di questo periodo a dicembre gennaio si sarebbe insomma riproposto gravemente il problema così è stato penso che come appunto si può leggere in proposta sensibilizzare i più giovani nelle scuole anche invitando medici appunto esperti dell'asl che possano anche togliere un attimino questo terrore che alcuni continuano ad avere del vaccino potrebbe sicuramente aiutare la collettività nell'essere quantomeno a conoscenza di quali sono gli atteggiamenti che vanno appunto a evitare il più possibile i contagi e che possono aiutarci a uscire dalla pandemia dovrebbe esserci dovrebbe essersi riunita la commissione cultura di cui faccio parte rispetto alla proposta è possibile? sì se gli uffici all'occasione possono prendere la proposta grazie a tutti grazie a tutti Diamo lettura Sensibilità al tema Covid nelle scuole Funge la segretaria di istituto amministrativo Anna Maria Guccione Alle ore 9.48 in prima convocazione risultano presenti la Presidente di Gesù, il Consigliere Aiello e il Consigliere Figuccia Constatata la presenza del numero legale, la Presidente di Gesù apre la seduta La Presidente di Gesù per ordine dei lavori chiede al segretario della lettura la proposta del punto 2 dell'ordine del giorno Proposta a firma del Consigliere Figuccia ad oggetto sensibilità al tema Covid nelle scuole Protocollo 976-814 del 21 settembre 2021 Il segretario da lettura della proposta La Presidente di Gesù chiede al Consigliere proponente di illustrare la proposta Il Consigliere Figuccia asserisce che la proposta è molto chiara, il tema Covid è tuttora molto importante Occorre sensibilizzare i bambini invitando i medici nelle scuole per illustrare il periodo pericolo del Covid La Commissione ritiene opportuna approfondire l'argomento mediante ricerche La Presidente di Gesù afferma che all'inizio dell'anno scolastico è partito in presenza in tutte le scuole d'Italia Ma questo non deve far abbassare la guardia ai docenti, ai docenti, ai personali scolastici e ai studenti E' importante ricordare costantemente le regole a rispettare per limitare il contagio dal coronavirus Dunque occorre organizzare incontri per sensibilizzare al tema del Covid-19 i bambini e le scuole elementari Grazie all'intervento del personale medico dell'ASPO di Palermo A tal fine in alcuni comuni come Brindisi e Trani L'Amministrazione ha organizzato incontri nelle scuole con ASPO e questore Rendere consapevoli i bambini anche attraverso il gioco significa sensibilizzare gli adulti La Presidente di Gesù chiude la discussione generale La Presidente di Gesù alle ore 10.38 pone in votazione per appello nominale la proposta firma del Consigliere Figuccia Ad oggetto sensibilità al tema Covid-19 nelle scuole Protocollo 976-814 del 21 settembre 2021 L'esito è il seguente Consiglieri presenti 3, assenti nessuno Voti favorevoli 3, Aielo di Gesù e Figuccia Voti contrari nessuno Astenuti nessuno La Commissione esprime parole favorevole la proposta di un'unità dei presenti L'apprezzamento di Gesù È esaurito i punti all'ordine del giorno Chiude la seduta alle ore 10.40 Chiude l'apprezzamento di Gesù Chiude l'apprezzamento di Gesù Presidente Aiello Non c'è Aiello Consigliere Losardo Assume lei la presidenza Ok Allora abbiamo letto il verbale Elaborato appunto dalla Commissione O meglio elaborato dopo la seduta appunto della Commissione ad hoc Ci sono altri interventi in merito? Sì Presidente se posso Prego Io proporrei una modifica dell'oggetto E tra l'altro nell'intervento del Consigliere Figuccia Dello stesso Consigliere ha sottolineato L'importanza della vaccinazione Io la proposta La metterei come sensibilizzazione alla vaccinazione Perché sensibilizzazione al covid All'enorme covid I ragazzi sono ormai master quasi laureati in questa cosa Siamo al secondo anno e mezzo di pandemia Ancora andare a investire risorse Per dire ai ragazzi delle scuole elementari Come comportarsi Quando il vero problema sono gli adulti Se noi lo avessimo fatto per i genitori Sare stato diciamo assolutamente d'accordo Investire risorse, medici Tra l'altro dico bisognerebbe farlo ovviamente a distanza E neanche in presenza Per i ragazzi che sono i più bravi a seguire invece le regole Le norme comportamentali Mi sembra un di più superfluo, pleonastico Se invece noi la proposta la facciamo diventare sensibilizzazione alla vaccinazione Visto che pur non obbligatoria sotto i 12 anni È comunque importante la vaccinazione E allora mi trovo d'accordo perché il momento In cui bisogna sensibilizzare proprio alla vaccinazione Dei ragazzi delle scuole elementari Io spero che, tenuto conto appunto che come diceva il consigliere Figuccia La proposta è datata a settembre Di un altro anno tra l'altro Oggi dobbiamo essere al passo con le nuove esigenze Rispetto alla pandemia La nuova esigenza è la vaccinazione Più che le norme di comportamento che ormai sono Ripeto Fra dice in testa i bambini che le rispettano meglio degli adulti Spero che i membri della commissione Siamo d'accordo a fare queste modifiche Prima di portare al voto la proposta Grazie Sì, Presidente, se posso Sono Figuccia Ci siete? Sì, prego Consigliere Figuccia, prego Sono assolutamente d'accordo Con quanto detto dal consigliere Alcadonna Mi pare perfetta la sua osservazione In effetti abbiamo tutti Fra dice in testa le regole Anti-Covid Per evitare diciamo i contagi Ma qualcuno ancora Balbetta sull'apprendere Che il fatto di vaccinarsi Diventa essenziale Quindi sono assolutamente d'accordo Grazie E quindi Presidente, posso? Prego, consigliere di Gesù Sì, anche io sono perfettamente d'accordo Quando abbiamo trattato la proposta Credo a settembre Ora non ricordo Mi è sembrato di capire così Ancora non era prevista la vaccinazione Per i bambini dei 5 anni in su E quindi Perché no? Io sono assolutamente favorevole A modificare l'oggetto adesso E quindi necessita un emendamento Allora se siamo d'accordo Scrivo in chat due emendamenti Uno per modificare l'oggetto E uno per modificare Non ho sentito l'intervento Del consigliere Altadonna Che diceva Consigliere Altadonna Mi sentite? Adesso sì Poc'anzi era balbettante Dicevo se mi date Qualche secondo Preparo in chat Due emendamenti Uno Che modifica l'oggetto Quindi sensibilizzazione Alla campagna di vaccinazione Per gli alunni delle scuole primarie E l'altro Nel corpo della proposta Aggiungiamo appunto C'è cambiamo Che anziché Un incontro Sulla Norme di comportamento Diventa un incontro Appunto Sulla sensibilizzazione Specifica Alla vaccinazione Se mi date Qualche minuto Lo scrivo in chat Diciamo Conoscendo le sue capacità Io le posso concedere Anche due ore Ah la ringrazio Consiglio Santo Stavolta non mi sento Lusingato Dalle sue parole Cinque minuti vanno bene Era una battuta Era una battuta Dico cinque minuti Bastano A voglia A voglia Perfetto Allora cinque minuti E poi Diciamo Riprendiamo Ma non Siamo sempre collegati Allora cinque minuti vanno Allora cinque minuti vanno Allora cinque minuti vanno Druzzi Parfetto Allora cinque minuti vanno Alora cinque minuti vanno Grazie. 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 Allora, leggiamo il primo emendamento. Il microfono. Sentite? Sì. Sì, sì. Emendamento modificativo. Cassare la frase dà sensibilità fino a fine periodo, sostituendola con campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione per gli alunni delle scuole primarie. Ok, non sapevo. Ancora. Non sapevo. Certo. Ciao. Grazie. Secondo emendamento modificativo, aggiungere nel corpo della proposta il seguente periodo, promuovere incontri con medici e psicologi al fine di informare sull'efficacia del vaccino e rassicurare alunni e famiglie sulla sicurezza della vaccinazione. A questo punto se nessuno parla non succede niente. No, insomma, essendo presente Andrea Aiello e consigliere Aiello, io non intervento. Presidente Aiello. Scusate la precisazione. A quanto pare il consigliere Aiello ha dimenticato il cellulare collegato, ma lui è in altri posti. Va bene, allora, riassumirei che è una presenza e assenza, diciamo, come il suo solito. E' come se non ci fosse. Qui, sono qui. Eccolo. Ah, ecco. Sepponcio. Dice, non stuzzicare il can che dorme. Io sono entrato ora. Dove siamo arrivati? Se mi date delucidazione. Il consiglio d'alta donna ha presentato due emendamenti alla proposta di cui appunto 44. Si sanno letti gli emendamenti. Fa data lettura degli emendamenti? E' stata data lettura, se vuole li leggiamo. Sì, anche per essere a conoscenza. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Prima emendamento alla proposta sensibilità al tema Covid delle scuole. Emendamento modificativo. Cassare la frase da sensibilità fino a fine periodo, sostituendola con campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione per gli alunni delle scuole primarie. Vediamo lettura di tutti gli emendamenti. Secondo emendamento modificativo, aggiungere nel corpo della proposta il seguente periodo. Promuovere incontri con medici e psicologi al fine di informare sull'efficacia del vaccino e rassicurare alunni e famiglie sulla sicurezza della vaccinazione. C'è il terzo emendamento? No, no, due. Ti ringrazio. Perfetto. Arrivederci. Perfetto. Mettiamo in votazione il primo emendamento. Presidente, prima di votarlo, posso dire una cosa? Prego, andiamo a fare qualcosa. No, volevo chiedere, siccome prima di formulare gli emendamenti ne avevamo appunto discusso durante la seduta, volevo sapere se i componenti della Commissione Cultura volessero confirmare gli emendamenti, visto che appunto li abbiamo concordati insieme. Sì, sì, per me non ci sono problemi, assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, anche per me non c'è altro problema. Ok, Presidente, possiamo procedere alla votazione, allora. Prego, mettiamo in votazione il primo emendamento, come già letto, chi è contrario e chi si astiene? Approvato all'unanimità. Mettiamo in votazione il secondo, chi è contrario e chi si astiene? Ovviamente io sul controllo degli scrutinatori e dei scrutinatori, dei... Manca la consigliera Cavaliera. Eh, appunto, per questo, io mi fido dell'ufficio, va. Allora, quando abbiamo votato il emendamento, la consigliera Cavaliera era presente? Io presente sono, allora non vedevo io. No, no, presente. Ah, perfetto, allora siamo in perfetto ordine. Allora, mettiamo in votazione il secondo emendamento, chi è contrario e chi si astiene? Approvato all'unanimità. Aspetti, consiglieri Palazzo? Era lo scrutinatore, non lo vedo. No, è presente. È presente? Non lo... Sì, sì, è presente, è presente. Presidente sono. Sì, sì, è presente, è presente. Per cui, abbiamo già votato i due emendamenti, mettiamo in votazione per appello nominale la proposta come testa emendata. Sì, è presente. Si mette in votazione la proposta campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione per gli alunni delle scuole primarie. Teresi. Assente. Aiello. Favorevole. Altadonna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia. Favorevole. Lo Sardo. Io voto sì. Lucido. Favorevole. Palazzo. Favorevole. Stabile. Assente. Otto presenti, due assenti. Otto voti favorevoli. Grazie, segretario. Visto l'esito della votazione, la proposta è approvata all'unanimità dei presenti. Io abbandono l'aula per motivi istituzionali, per cui invito il consiglio dello Sardo a prendere la gestione dell'aula. Grazie. Grazie. Bene, dopo l'abbandono quindi del consigliere Aiello, assumo la conduzione dei lavori d'aula. Come ordine dei lavori, quale proposta verrebbe? Sempre per ordine dei lavori? Collocata al punto? Ultimamente bisogna prelevare. Bisogna prelevare. Ma ci sono pareri da esprimere sui regolamenti comunali? Sì. Quali sono? Si possono... Un attimo, mi piaceva il video all'ordine del giorno. Come? Sono messo il video all'ordine del giorno, un attimo. Ah, sì. Allora, sì. Allora. Grazie. No, no. punto 75 riattivazione esecutività del regolamento anti-eversione deliberazione consiglio comunale 89-20 sospeso fino al termine della pandemia con deliberazione del consiglio comunale numero 24 del 21-4-2021 azione correttiva propedeutica a piano di riequilibrio all'ENTA perfetto ma quante quante pagine sono? ora lo prendiamo nel frattempo se qualche collega volesse delucidarci avendo già letto questo regolamento basta chiedere la parola e le verrà date quattro pagina ma è solo la proposta ci abbiamo solo la proposta non il regolamento come? abbiamo la proposta il regolamento no quindi sono quattro pagine cosa dice la proposta scusa sono modifiche al regolamento no? e quindi ci debbano essere queste modifiche anche per fare un paragono so che parlava di me poco fa ma io non sono riuscito a studiarlo Presidente non ho avuto il tempo in questi giorni ah no? se no vi avrei delucidato lo so ci mancherebbe infatti mi sono lanciato mi sono lanciato qua dice riattivazione e esecutività del regolamento anti-eversione ah quindi è una riattivazione questo regolamento però non dovrebbe essere copia di questo regolamento ma era stato sospeso per via del covid perché mi pare che si a quanto pare si del periodo del periodo pandemico a quanto pare se la logica dovesse essere questa io mi asterrò perché è chiaro che col prolungarsi del dello stato diciamo di pandemia secondo me bisogna prolungare anche gli effetti di questo stop al recupero poi diciamo discutiamole anzi sarei per un prolungamento non esatto una sostanzia va bene allora che percorso facciamo ci vogliamo subito esprimere no io presidente faccio una proposta sì prego siccome non appunto giusto per chiarirci meglio i termini di questa riattivazione se è per questione che ce l'hanno fatta perché stava per finire il 31 dicembre la pandemia e poi è stata prorogata per altre motivazioni io ho necessità di approfondire la questione non so se gli altri colleghi sono d'accordo ma le chiederei formalmente di chiudere la seduta e magari prenderci quest'oggi di tempo quindi cosa propone scusi? di chiudere la seduta e prenderci il tempo necessario entro domani così da per poter approfondire penso che non ci siano disaccordi su questa proposta avanzata dal collega alta donna quindi riprenderemo la descrizione domani in maniera tale che tutti quanti possiate approfondire appunto questa proposta di cui abbiamo già iniziato la discussione quindi la seduta è chiusa buona buona giornata buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti